Guardate, se entro giugno non arrivino questi ristori e non si hanno delle risposte certe anche di programmazione sulla ripartenza, il dato, ahimè, confermato finora dal nostro settore di controllo nazionale, prevede la chiusura di 450.000 imprese e quasi un milione di dipendenti che rimarranno a casa. Sostegna le imprese proposte sulla fiscalità, sul credito, sulle riaperture. Sono tante concrete le misure contenute nella petizione di Confesercenti per un aiuto reale a tanti piccoli imprenditori, dalla ristorazione al turismo, che con la crisi prodotta dall'emergenza Covid rischiano di non riuscire a rialzarsi. Le piccole imprese prima di tutto chiedono supporto per i propri collaboratori, perché dobbiamo ricordare che dietro ogni partita IVA ci sono delle persone, famiglie, quindi hanno bisogno, queste famiglie oggi, di essere supportate. La fotografia è veramente tragica in quanto in questo momento non arrivano i ristori richiesti dallo Stato, non sono sufficienti per ripartire. Abbiamo proposto un decreto urgente per la ripartenza del Paese, diciamo che se ripartono le imprese, riparte il motore dell'Italia del lavoro, riparte anche l'Italia stessa. Quindi abbiamo chiesto con una quindicina di semplici proposte operative immediatamente eseguibili di far ripartire il Paese. A Verona la mobilitazione di Confesercenti ha ottenuto l'adesione delle autorità, tra le proposte un anno fiscale bianco per sospendere la Tari, la tassa dei rifiuti e la Tosap per i plateatici. Chiediamo alle amministrazioni provinciali e comunali, l'anno bianco, quindi di non pagare la Tari, di non pagare la Tosap, di chiedere però al Governo di non lasciare solo i comuni e le province in questo momento, ma di ristorarli per queste mancanze, altrimenti succederebbe che il giochino della coperta troppo corta andrebbe a tagliare dei servizi essenziali, magari che ne so alla famiglia o comunque al sociale, che non vogliamo che accada questo. Abbiamo trovato una vicinanza, sono tutti impegnati su questo fronte, il sindaco ha fatto l'esempio importante e corretto che deve esserci la squadra, il sistema Verona che si deve muovere anche per pensare al domani. Il prefetto si è già mosso per comunicare a Roma quelle che sono state le nostre richieste, ma era già molto preparato e ci ha fatto molto piacere ricevere da lui questa vicinanza. Quello che serve e in tempi brevi, dice Confesercenti, sono sostegni adeguati, credito immediato e soprattutto un piano per ripartire.